Buongiorno a tutti, oggi c'è qui all'Urban Center il convegno ispirato dal mio libro Italo Granchio. Che cos'è Italo Granchio? È un libro che riassume mesi e mesi di narrazione sui mass media, quindi giornali, televisione e social media, del Granchio Blu. Ho cercato di delineare con questo libro tutta l'epopea dell'invasione del Granchio Blu. La mia è una favola ecologica popolare. Il Granchio Blu ha delle sembianze umane e contrariamente a quanto la narrazione dominante dice dovrebbe essere un killer, io invece rovescio l'immagine e lui alla fine, anziché mangiare le cosse, in questo caso la cosse di Bella Serena se la sposa. È un libro provocatorio che cerca di mettere in luce, tentare di rovesciare una relazione e trovare un punto di verità tra chi sta col Granchio e chi contro, cioè tra granchisti e anti-granchisti. Quindi è un libro piacevole e spero che naturalmente possa interessare. Oggi il convegno approfondirà invece tutti gli aspetti di questo fenomeno, quindi l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto culturale e dovrebbe uscire una sintesi di questo fenomeno che per i Polesini è molto importante perché non c'è solo l'assistenza ai pescatori che è doverosa, ma c'è anche il fatto di gestire questa situazione pensando che in altri paesi, ad esempio la Tunisia e il mio libro lo dimostra, hanno risolto il problema in maniera brillante utilizzando il granchio blu per scopo alimentare.